Tutto può accadere all'interno delle camere da letto del Grand Hotel 99 Comedi, in scena sabato 21 ottobre dalle 19.30 e domenica 22 ottobre dalle 17.30. All'Aquila torna il Grand Hotel Comedi che per questa seconda edizione ha come location l'albergo delle 99 cannelle di Borgo Rivera. Il format è strutturato in piccole storie che si consumano in camera, appunto incontri equivoci, travestimenti, appuntamenti catastrofici o nuove conoscenze. Il pubblico incontrerà un avvocato cleptomane, una coppia sui generis, un manager in viaggio d'affari, due colleghi al primo appuntamento, una psicologa con il suo cliente e tanto altro ancora. Il format è ideato da Valeria Bafili e Antonia Rezzella, con la collaborazione alla drammaturgia di Isabella Benedetti e Andrea De Petris e con la partecipazione di Valeria Bafili, Marco Cassini, Alessandro Coccoli, Giancarlo Curio, Simona D'Angeli, Chiara De Paolis, Andrea De Petris, Andrea Fugaro, l'area Micari, Antonia Rezzella, Paola Retta, Sebastiano Santucci e Massimo Sconci. Che cosa succede? Gli spettatori vengono fatti accomodare dentro la hall all'inizio, all'interno della hall degli alberghi che ci ospitano, e poi vengono accolti dai camerieri e portati a gruppi di 15, di 10 persone, a seconda della capienza della stanza dell'albergo, vengono portati all'interno di queste stanze, dove si vivono delle piccole storie che gli attori mettono in scena e dove gli spettatori sono degli spioni, nel senso che spiano come dal buco della serratura. La prima serata, che è quella del 21 di ottobre, all'hotel delle 99 Cannelle, è stata organizzata insieme al Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati dell'Aquila e al Centro Antiviolenza per le Donne dell'Aquila, a cui andrà parte del ricavato. Noi siamo molto contenti di questa iniziativa e speriamo verrà molta gente, anche se già abbiamo il sold out per il sabato.